Dislocazione scuole a Isernia, alla fine non è cambiato nulla, il comune va avanti per la sua strada e praticamente a niente è servito il Consiglio Comunale Aperto indetto a Palazzo San Francesco con la partecipazione dei due comitati di genitori e alunni delle due direzioni scolastiche della Giovanni XXIII e della San Giovanni Bosco. I trasferimenti e le nuove sedi saranno quelli già stabiliti nonostante le pressioni e le mantele delle mamme presenti in aula. Diciamo che non è stato innanzitutto preso dall'inizio una decisione e vedere veramente le esigenze quali erano e prendere una decisione poi definitiva su quali erano le esigenze reali. Anche lei è contraria a questo piano del comune, perché? Principalmente per quello che riguarda i bambini dell'infanzia, cioè bambini piccolini come lei che dovranno trasferirsi da quello che ho capito a San Lazzaro in un edificio che non si trova più al centro di Sernia, quindi i loro nonni non saranno più in grado di prelevarli a piedi, avranno necessità di macchine o addirittura dovranno andare con un pulmino dei bambini che sono piccolissimi e non solo vogliono derubare ai bambini di Sernia dell'infanzia una scuola che è pienamente a norma, per metterli in un'altra che non è stata creata, che non è nata per i bambini dell'infanzia. Quindi per me è una cosa abbastanza strana, probabilmente la loro sicurezza non sarà più adeguata come invece lo è oggi. L'amministrazione da Pollonio, dopo aver dato spazio ai portavoce dei due comunicati, quello della Giovanni XXIII e quello della San Giovanni Bosco, che entrambi chiedevano l'assegnazione del nuovo edificio di quartiere San Leucio, ha ribadito la sua decisione. Un polo a San Lazzaro con tutte le sezioni dalla scuola primavera alle medie e un altro sempre dalla primavera alle medie a San Leucio nella zona del nuovo edificio, in sostanza traslochi per tutti, visto che anche la scuola dell'infanzia, attualmente nella zona industriale di Miranda, andrà a Isernia, nei fondaci dell'edificio dell'ex Fiat Saci. Ricapitolando, allora facciamo un po' schematicamente quello che succederà a settembre, Assessore. La scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco dovrebbe andare, dico dovrebbe perché siamo in fase di trattativa e dobbiamo quindi firmare ancora il contratto, dei locali che sarà via Giovanni Berta, sono siti in via Giovanni Berta, la scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco. Quella che sta a Miranda. Quella che sta a Miranda. Sempre a Miranda, attualmente c'è anche la scuola dell'infanzia San Pietro Celestino che andrà invece all'ex quinto settore, dove la andremo a riunire alla scuola primaria San Pietro Celestino. Mentre è a San Lazzaro, quindi rimane inalterato l'edificio quello grigio, quindi rimarrà la primaria San Lazzaro e la scuola dell'infanzia San Lazzaro. Mentre alla tagliente trasferiamo le due scuole, cioè la scuola media Giovanni XXIII e la scuola dell'infanzia San Leucio. Al polo entrano l'antrea di Sernia, quindi la scuola media Andrea di Sernia, mentre al pian terreno sarà posta la primaria della San Giovanni Bosco, che non entrando come numero di aule, una parte entra all'edificio colorato a fianco, quindi si dividono, ma i plessi sono molto vicini.